Ciao amiche della BEC, sono al mare e sto leggendo tutti i vostri commenti sul progetto di oggi. Intanto mi avete chiesto la realizzazione del modellino che indossavo io per capirsi l'abito a righe bianche e blu. Ora, io ve lo faccio volentieri, però sinceramente quel modello lì è carino perché è realizzato con la riga in due versi, cioè l'abito con la riga verticale e in fondo in orizzontale. Ora, io se trovo una stoffa che faccia tipo un motivo, tipo riga, guardo se con i tempi riesco a realizzarvelo perché siamo già in fase estate inoltrata e tra prepararlo e cercare la stoffa un po' di tempo mi occorre. Vorrei arrivare troppo tardi per i vostri progetti. Con questo vi mando un saluto dalla costa degli Etruschi, un bacione dalla BEC. Ciao, grazie sempre!